Ciao! Se dovessi definire la concept room direi proprio che è energia, persone e valore. È vero, perché quando tu hai un interscambio così aperto con le altre persone, quello che ne trai è veramente un'energia fortissima che puoi scaricare in tutte le attività che fai, ma anche nella tua vita, quindi ne trarrai un grandissimo beneficio. Vi posso assicurare che Luca, Simona e Stefania insieme sono una vera bomba. Assolutamente, posso confermare, anch'io ho fatto lo stesso percorso, ma devo dire che la concept room, le 12 puntate, è stata veramente pazzesca e ha permesso di creare connessioni tra le persone. Le persone hanno potuto conoscersi meglio e in questa summer edition ancora di più, perché siamo gruppi più ristretti e veramente c'è un interscambio continuo di valore, di energia, di sentimenti anche. Tanta adrenalina! Ci si commuove anche! Ci si commuove ma si esce sempre che si cammina un metro da terra. E non è finita qua, perché poi c'è la terza parola, valore. Cosa succede? Io e Roberta ci conoscevamo così di vista, stiamo mettendo in piedi un business insieme, stiamo già facendo delle live su Facebook, parliamo di immobiliari, di come vendere appartamenti con i video. È pazzesca, è scattata una scintilla, ma non è l'unica. Ci sono state altre situazioni con persone che hanno creato addirittura delle aziende. Questa è la dimostrazione che è un format che funziona. È una vera bomba, quindi unisciti a noi! Ti aspettiamo! Ciao! Ciao!